Due maestre di una scuola dell'infanzia di San Giorgio Albanese in provincia di Cosenza sono indagate e sospese dall'impiego per sette mesi per presunti maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di San Giorgio Albanese coordinate dal sostituto procuratore Valentina Draetta dopo la denuncia presentata da alcuni genitori. Nel corso dell'attività investigativa è stata documentata una serie di maltrattamenti che le due insegnanti avrebbero compiuto nei confronti di alcuni bambini. Le due donne avrebbero sottoposto i piccoli a miniacce verbali come se non fai il bravo ti faccio il pungi pungi ma anche a violenze fisiche con pizzicotti, schiaffi e tirate d'orecchie. Le due avrebbero utilizzato un righello di plastica aggiungendo in un'occasione a lanciare anche senza alcun motivo apparente dei giocattoli violentamente contro un muro. L'attività di indagine avrebbe accertato il ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti dei bambini tra cui alcuni figli di rifugiati politici accolti in Italia e che lì soggiornavano. Le due insegnanti avrebbero fatto spesso ricorso alla violenza inducendo i bambini a risolvere fra loro le piccole controversie ricorrendo alle mani o emulando le stesse loro condotte violente rimanendo assolutamente indifferenti davanti a tali atteggiamenti. Ad eseguire le misure interdettive i carabinieri di Corigliano Calabro su disposizione del GIP del Tribunale di Castrovillari.